Ad honorem sante et individue trinitatis, ad exaltationem fidei cattolice et vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum petri et pauli ac nostra, matura deliberazione per habita, et divina ope sepius implorata, ag de plurimorum fratrum nostorum concilio, beatum iuniperum serra, santum esse decernimus et definimus, ag santorum catálogo ascrivimus, statuentes eum in universa eglésia, intersantos pia devocione recoli debere, in nomine Patris et Fili et Spiritus Santi. Amen. Applaudissements 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.